buongiorno buongiorno questa è una dell'ultima uscita chissà è arrivato il freddo ore ore 5 e 29 stai addormito stamattina è più tardi vabbè che dire ragazzi ci riproviamo ci riproviamo e vai avanti 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 mai mollare mai mai guarda se è alba ragazzi guardate alba e vai ci siamo ancora una volta nel bosco siamo tornati un po a vedere se è rimasto qualcosa se è rinato qualcosa se ci sono i cucchi come li chiamano gli ovuli da queste parti fa freschino la temperatura è nettamente cambiata in questi giorni vediamo vediamo mai mollare mai 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 avanti 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 ragazzi che bellezza la cosa altrettanto bella è che non c'è nessuno il bosco non c'è nessuno quindi ce lo godiamo tutto tutto per noi anche senza funghi ma tutto tutto solo per noi ma guardate che bello questo mi sa che se oggi si trova due funghi si mettano proprio qui sopra guardate vengo a accomodarli proprio qui sopra due funghi qui perfetto alla grande avanti 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 ma non ci sono finiti 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 eccolo eccolo ecco 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 un altro ovulo vedete questi ci dicono che siamo al fine della buttata quando quando ci sono ovuli e non funghi è una bella è una bella evidenza e vai mai mollare pensa potrebbe essere da solo ma invece c'è sempre c'è sempre ragazzi guardate continuano a venire su vesce quindi come se la nascita stesse continuando il terreno stesse continuando a muovere chissà che in futuro non rinasca ancora qualcosa e vai avanti 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 oggi solo cocchi e avanti 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 vedete venite con me guardate qua guardate il fungo c'è qui ma guardate il fungo c'è qui e ancora e ancora ci sono in giro questi funghi un fungo del genere vale vale la giornata ragazzi guardate qua ma guardate esemplari sano duro un gambone matto 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 avanti 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 oggi sono veramente rari eh rari 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 però ogni tanto se ne esce un funghetto anche se mangiato male vedete vedete va benissimo va benissimo avanti 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 vedete siamo proprio nella parte residua dei nostri funghi ce ne sono veramente rimasti rimasti pochi pochi però finché si trova qualche fungo qui fino all'alto guardate qui secondo me qui secondo me questo sembrerebbe un po' più bellino avanti 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 non si molla ragazzi guardate bello questo ovulo guardate qua guarda che bello questo è bello davvero questo è bello davvero avanti 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 matto guardate ragazzi che ovuli belli ci sono qua ma guardate qua mamma mia mamma mia che bellezza guardate questo è già sfiorito questo mangiato dalle rumache e questo invece è bellino 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 non male ragazzi non male avanti 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 la soddisfazione mi danno questi funghi ragazzi è una cosa incredibile sono questi veramente invisibili quelli che fai proprio fatica a scolcerlo lo vedete lo vedete si vede proprio a malapena però sembrerebbe ci fosse un bel fungo qui sotto guardate qua guardate qua nascosto guardate qua voi che fungo che c'era qua no no lo lascio dire a voi matto 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 non ci sono funghi non ci sono avanti 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 vedete ragazzi quando vi dico io mai arrenderti mai arrenderti guardate guardate il fungo c'è qui ma guardate voi il fungo c'è qui ma pensate ancora se ne escono funghi così belli è quasi incredibile avanti 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 ogni tanto vedete qualche fungo se ne esce fuori qualcuno un po' più bellino qualcuno un po' meno però ogni tanto devo dire questa è una condizione perfetta perché non c'è nessuno se trovavo forse due persone all'inizio non c'è nessuno ogni tanto un funghetto pace tranquillità ma cosa vuoi di tutta la vista non c'è nessuno non c'è nessuno avanti 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 matto matto e sono veramente veramente rari oggi però quando ne vedi uno subito l'energia torna alla grande guardate se ne fosse guardate il fungo avanti 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 mai mollare ragazzi mai 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 e poi tu cammini tranquillo e cosa appare e cosa appare guardate il fungo c'è qui guardate il fungo ancora bianco guardate bellissimo bellissimo matto 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 ma chi ci ferma io ultimo ma come in moto per peso avanti 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 sono tutti avanti 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 av bianco anche questo, favoloso, avanti, 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 venite, 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 guardate i funghi ci sono, guardate i funghi ci sono ancora, belli, 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 avanti, 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 mai mollare, mai, 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 eccolo, 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 un vecchiarello, un vecchiarello, un vecchiarello, guardate, avanti, 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 troppi, 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 che bello, mamma mia, perfetto, perfetto, avanti, 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 matto, guardate dove si è nascosto il fuoco, ma bello anche, ma bello, dentro, dentro, al pungi sopra, guardate qua, matto, avanti, 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 siamo alla fine ragazzi, siamo alla fine, siamo alla fine, ora, si mettano tutti insieme, fa vedere che tutto sommato, sono proprio soddisfatto, sì, giornata eccezionale, avanti, 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 e vai ragazzi, ci siamo, ci siamo, si conclude anche questa giornata, sentitela, sentite, c'è la cacciata al cinghiale, quindi bisogna stare molto, molto attenti, non sono qui, ma sono abbastanza vicino. Allora, come è andata? La giornata si è conclusa con, diciamo, soddisfazione, perché tutto sommato, i funghi sono terminati, c'è veramente poco, e quindi bisogna sapersi accontentare, e sicuramente oggi è stata una giornata bellissima, pochissima gente, bosco bello, purtroppo i funghi ci hanno un po' abbandonati, però, vi ricordate stamattina, quando si è visto questo bellissimo tronco detto qua, se si trova qualche fungo si viene a accomodarlo qua, eccoli qui, sono 18 funghi e 15 ovuli, direi piena soddisfazione, piena soddisfazione perché, guardate i funghi, ancora, ancora adesso si riescono a trovare funghi così, tra tre, 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 di fungo, quindi ancora tanti funghi, qualcuno vecchio, nessuno di nascita, come potete vedere, questi due più bellini, ma insomma, e bisogna sapersi accontentare. E gli ho qui, un'insalatina stasera non ce la togli nessuno. Che dire ragazzi, novembre ci ha regalato tante soddisfazioni, oggi è una di quelle, speriamo che riparta qualcosa, speriamo che ancora qualcosa ci possa essere in questi boschi, e noi non molleremo assolutamente. Vi aspetto sul canale YouTube Porcini e Passione, sentite, gli sparano il cinghiale, mamma mia. Avanti, avanti, avanti ragazzi, mai mollare.